Sindaco subito senza passare per il balottaggio con quasi il 67% dei consensi, Ottavio De Martinis, come noto, è il neoprimo cittadino di Montesilvano, sostenuto da Lega Forza Italia, Fratelli d'Italia e Montesilvano in comune, Samani ha incontrato a Palazzo di Città il sindaco uscente Francesco Maragno. De Martinis tra i sindaci, se non il sindaco della Lega più votato d'Italia, già si pensa alla nuova giunta e alle prossime situazioni da affrontare. Intanto il 70% rappresenta una grande fiducia riposta nella mia persona, ringrazio pubblicamente tutti coloro che mi hanno dato questa grande fiducia, ripagherò come sempre fatto, infondendo ogni energia possibile sul territorio, essendo presente costantemente, come fatto in questi anni, per far sì che la nostra Montesilvano e i cittadini abbiano quello che meritano. La politica è fatta anche di poltrone, in aiuto, si spera, dei cittadini e dunque per la giunta è ancora presto? Si stanno facendo dei ragionamenti, ma il tavolo politico con molta probabilità si definirà all'inizio della settimana prossima. Ci sono delle professionalità e delle persone all'interno di tutte le liste molto capaci, motivo per il quale avremo soltanto l'imbarazzo della scelta e ragioneremo su queste competenze al fine di assegnare anche delle deleghe. Non sia diplomatico qualche indiscrezione in più? Sicuramente i primi eletti delle liste saranno pesi in debito e considerazione. Faccio un esempio tra tanti di Deborah Comardi, che è stata la più votata, non può che non rivestire, qualora lo voglia, una carica d'assessore. Vice sindaco, presidente del Consiglio? Il presidente del Consiglio va votato, come sapete, all'interno dello scranno comunale e di conseguenza ragioneremo anche qui su una figura che possa rappresentare al meglio il Consiglio comunale tutto e possa essere da collante tra le varie forze politiche. Il suo vice? Il vice, anche questo, va ragionato al tavolo e quindi al momento su questo non posso esprimermi. Salvini non l'ha sentito? Salvini non l'ho sentito, però il coordinatore Bellachioma mi ha manifestato grande gioia da parte del partito per questo risultato. È un risultato che è storico non soltanto per il nostro territorio, ma sembrerebbe essere storico e un record anche a livello nazionale. Dovrei essere, se non da indiscrezioni, il sindaco della Lega più votato d'Italia.